Di qualcosa? Non ci vede niente? La sera da Castro, che ore sono? Non ci vede niente? L'1.32. L'1.32? No, perché non si vede invece? L'unica cosa che si vede. Vabbè, dopo c'è anche luce. Aspetta, ci dovremmo vedere pure la lampadina. Apri un po', e l'umidi la faccia e l'umidi? Sì. Che caldo che sembra te. Ma gliene. Sembra te Blirware Project, ecco sì. Questo è Riccardo che va a Castro, due e mezzo di notte. Ci sono i lupi qui intorno, si sentono i cani che abbagliano. Guarda qui. Si vede? Si vede? A che ombra? Vabbè, siamo a Valentano. Sono le due di notte. Mancano ancora 20 km. Poggio Bricco. Allora, Riccardo, fai il tuo rotoconto. Allora, orario? 3.16. Luogo? Percorrenza, due ore, luogo Poggio Bricco. Poggio Bricco. La famiglia cominciava mentale, se non arriva verso Farnese. Oh, Farnese è di qua a Farnese, per cui... Ma c'era Poggio Bricco? Io ce ne ho andato piccolo, c'erano le donne adesso. No, ma non mi è unito a Poggio Bricco. Ecco, comincio a fa buio, comincio a fa... Eh, se le donne vanno solamente pagate, insomma. Pagate, perché non ho trovato le donne. Allora, dicevi, Ricca, l'ho tagliato quel pezzo in cui ci potete pagare le donne, ma gli pagavi la colazione, gli pagavi il pranto, ma gli pagavi... Via, a prestazione... Ah, adesso funziona così, bene bene. Pregca, dove siamo? Eh, guarda, cimitare 10. Vediamo un po' se... E la che non si prende? A Giro 3 è una cimitare così, a mezzo a Giro 3. Cimitare ebraico? Sono le 3.50. Sicuro? Si chiama Farnese. Vediamo un secondo, il lume non si chiude niente. Farnese, gemellato con... Com'è la stanchezza, le gambe come sono, il lume non c'è la faccia, non c'è il che? La stanchezza si sa farsi sentire, ma siamo quasi arrivati alla prima fermata. Ah, fra poco di fare la pausa pranzo, si, ho capito. Non dare la pausa colazione. È un buio pesto, la pausa pranzo. Voleva essere interessante definire il filmato del cimitero di Farnese. Ma, ha visto? Tutti i cimiteri di strada. Allora, illumina un po' il segnale. Si vede? Dove sei? Non so di niente, ti devi illuminare perché sennò... Illumina. Leggo. Farnese. Illumina la faccia? Eccoci, a 3.55, siamo arrivati a Farnese. Sulla volta facciamo la prima pausa. Circa un chilometro alla pausa. Che ti sei portato a mangiarti? Ma, sono solo sulle genote, ho camminato un bel pallino, una frittata. Tre uova fresche fresche. Sopri osparagi. Ricca, ma sei rimasto indietro? Il gruppo è avanti, il gruppo? Noi facciamo la chiusura della strada. Per sicurezza? Strade sicure nella passeggia da casa. Allora, non c'è nessuno oggi, va? Eppure sono appena 4 di notte, non capisco. Il gruppo, pur c'è più a vita. Sì, ormai si anima all'idea della pausa. Perché? Questo è un paese di Pinocchio, eh? Sì, ma si è messo la casa di Pinocchio. Vuoi aggiungere qualcosa? No, spero di fare un maestro ceppetto. O un maestro cilieggia. Questo è un paese quasi primitivo, questo. Gli abitanti e gente, diciamo, di... Eh, voi avete da notare le case, voglio... Non si amata niente, non si amata. Illumiti un po' la faccia? Ecco. Vuoi dire quei casi? La fontana ci siamo comunque, eh? Dove sei? Sì, la fontana, ecco, ecco. Illumina la fontana? Non ci vedete se la fontana? Vedi un po', ecco, 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 ecco. Ah, c'è già la macchina d'appoggio. Tra poco, sì? Sì? Sì, vedi che inizia a prendere i posti su... Eh, becca, ha le caratteristiche. Ah, ecco la fontana. Eccola. Arrivati, abbiamo... La casa di Pinocchio pure? No, 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 la casa di Pinocchio. Questa è la casa della principessa che aveva di Turchia, eh? Ah, è pure spenta la fontana, guarda. La vitiato, la buon ternano. Che c'è nel panino? Una bella frittatina, non lo si vede. La frittata col... La sbaraggia. La sbaraggia. Di campagna e coltivati. Fresca, 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 zero. Ovette, asbaragi. Sì. Allora, panino col mitro prosciutto. Uno forse è pure un po' angallato, però... Il piatto dell'umache. Quanto manca? Un paio di torri di cammino. Che fa? Che fa? Albergia? Cominci a belgiare. Ragazzi, due anni, manco la tutta. Dice, ma lui, che fa? Se dice, ma lui, che fa? Non lo so, ma ce l'avevamo lì nel genocchio. Sì, sì. Capito? Sì. Lo so gustando. Che ti aspetti a casa? Il miracolo. Siamo appena ripartiti dalla pausa alla fontana. Non vedo niente. Illumina la faccia. Allora, dove siamo? Siamo appena ripartiti dalla pausa alla fontana. Altri 4-5 km. Sei molto ottimista. Delle altre 8-9 km. No, a strina bianca. Senti, ma che ore sono? Sono le 4 e 43. Sì, ma è quasi giusto? Non si vede niente, però. Sì, ma è quasi giusto. 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 Sì, mi manca tanto. Riccardo, dove siamo? È giorno? Siamo sull'olpeta. Sì, eh? È l'olpeta. Non si vede niente. Illumina un po'. Io lo farei. La giù c'è l'olpeta. Adesso, sulla fiducia, fidatevi. Non si vede. Dunque, quella è l'olpeta. Vi scrivi un po' l'olpeta. Chi è l'olpeta? Qualcosa che si mangia? Sarebbe un fiumiciatolo. Beh, tanto fiumiciatolo. Guarda che belle cascate. Passa pure a Valentano. E' un po' l'olpeta. Sì, ma è l'olpeta. Padre nostro, che sei un pedo, sia fantastico in suo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Come era la mia incisione, sempre, nei secoli, dei secoli, a Diario. Stanno rimettendo i nostri vetri, come non rimettiamo i nostri vetri, non si giuro in sensazione e manipolazione, ma ne hai. Ricchi, allora sei arrivato? Maria Castro, il sole è alto già in cielo, una bella passeggiata, è stata fatta. Te la sei squagliata? Te la sei? Ti sei perso tutto il filmato notturno? Siamo davanti a Sant'Orio di Castro, come potete vedere il figlio Farnesiano ai miei spalle. Non so che sempre parlo, però. Il Castro fa il paese. Queste sono le antiche grossi di Castro. Ti racconta il figlio Farnesiano ai miei spalle. Ma non è un figlio. Non c'è proprio il figlio. Non c'è proprio il figlio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.